L'app WIDI si rinnova, diventa WIDI WOW e mette insieme sostenibilità, turismo e cinema. L'applicazione per smartphone di Acea, che mappa fontane e nasoni di Roma, consentirà di tracciare e percorrere le vie dell'acqua della capitale, collegando anche luoghi simbolo apparsi in celebri film, come la fontana di Trevi della Dolce Vita e il Gianicolo della Grande Bellezza. Sul fronte della sostenibilità, l'applicazione introduce nuove funzionalità per il risparmio nell'uso della plastica connessa all'acqua. Inoltre vengono forniti aggiornamenti sull'attività di Acea sul fronte della sostenibilità. Sono oltre 50.000 i punti d'acqua in tutta Italia mappati dall'applicazione. L'app diventa sempre più fruibile e soprattutto diventa sempre più utilizzabile sia per i cittadini romani, sia per i cittadini delle città in cui siamo presenti, in cui siamo in servizio, sia per i turisti soprattutto che si trovano a Roma. Abbiamo anche tutte le pagine d'inglese e inoltre sulle fontane monumentali è presente la storia della fontana e quale acquedotto è interessato, da dove arriva l'acqua. Sono anche stati inseriti per una serie di percorsi che collegano le varie fontane della città da poter fare a Roma.